Benvenuto sul mio canale, iscriviti se non ti sei ancora iscritto. L'argomento di oggi riguarda mercati in tendenza, chiusure forti, chiusure deboli, come organizzarsi quando il mercato è particolarmente spinto. Oggi è l'8 di gennaio del 2024, quindi innanzitutto buon anno, buon anno nuovo, ripartono l'attività tutto tondo, anche se la settimana scorsa mi sono comunque dedicato all'operatività, soprattutto sugli strumenti americani. È stata particolarmente interessante come settimana, soprattutto nella giornata di venerdì scorsa, in cui abbiamo visto comunque un mercato spinto forte, prima a ribasso, poi a rialzo, poi ancora a ribasso e chiudere in una maniera un po' particolare, pur essendo venerdì. Le soddisfazioni ci sono state nella giornata di venerdì, ci sono state anche nella giornata di oggi, ma vorrei tornare sull'argomento per toccare ancora una volta un tasto che è, ahimè, dolente, indipendentemente dalla tipologia di operatività, quindi scalping, mica scalping, trend following, swing trading, intraday, multiday, eccetera, eccetera. Quando il mercato ha la capacità di sviluppare e di sostenere un movimento, è tanto inutile focalizzarsi solo ed esclusivamente su delle piccole porzioni di potenziali in movimento. In una giornata come quella di oggi, qui davanti hai il grafico del Nasdaq, se noi andiamo a vedere e prendiamo semplicemente il ruler come strumento di misura, fino adesso, che sono comunque le 18.40 mentre registro, il mercato ha fatto comunque un movimento più che dignitoso, perché sono 6.570 dollari dai minimi della giornata attuale fino ai massimi della giornata odierna. Ora tu capisci che se di quella porzione lì vai a prendere e hai un obiettivo di prendere, non so, i 50, 60, 100 punti, può essere anche ragionevole, 150 punti può essere anche ragionevole, ma se di un mercato come il Nasdaq, che ha la possibilità di esprimersi per, diciamo così, spazi di movimento decisamente interessanti, ti focalizzi sul prendere quei 3, 4, 5, 10 punti, perché vai avanti a 3 punti alla volta, 3 punti alla volta, 3 punti alla volta, è sì vero che nel momento in cui vai a lavorare sei molto efficiente, nel senso che hai una percentuale di profittabilità molto elevata, però non sei efficace, che cosa significa? Che ti bastano 1, 2, 3 operazioni consecutivi in perdita per annientare, per eliminare buona parte del tuo profitto, se non tutto. Diversa è la situazione in cui vai a puntare su quello che il mercato ha da offrire. Ora, non star lì a chiedermi, ah ma Marcello, come fai a sapere se il movimento di mercato può essere più o meno sviluppato? Vado a farmi l'analisi giornaliera, ci sono tanti video su questo tipo di argomento, cerco di lavorare dove il mercato ha possibilità di esprimere movimento, cioè non vado a creare operazioni dove il mercato è in una fase di saldo. Ti faccio vedere l'esempio di oggi dello Standard & Poor's, per me il nodo di volume di grado superiore che era da lavorare come obiettivo di prezzo a rialzo, era il 4.767, un quarto. E il mercato qui è arrivato, adesso qui si aprono le danze, si aprono i giochi, si possono qualificare tanti tipi di operatività su questi livelli di prezzo. Fatto sta che rispetto ai minimi della giornata attuale, che sono stati stamattina i 10.30-10.40 stamattina a 4.715, se mi fosse accontentato di prendere magari quei 2-3 punti, ecco che avrei magari chiuso in profitto, per l'amor del cielo, però sarei rimasto con un cerino in mano nel vedere il mercato che comunque ti parte e ti fa un movimento di tutt'altra dimensione, magari 20-30-40 punti sulla Standard & Poor's. Perché dico che questa cosa qui è importante? Indipendentemente dall'impatto economico, è l'impatto mentale che hanno questo tipo di giornate. Questo tipo di giornate hanno un impatto mentale incredibile, perché se sei abituato a lavorare stretto sul mercato e a prendere delle piccole porzioni, quando ti trovi il mercato che sviluppa movimenti molto elevati, o sei a mercato e ti tappi il naso e vai contro quella che è il tuo stile operativo, o diversamente sei lì che sei continuamente stimolato e stuzzicato nell'entrare, 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 nel fare le piccole porzioni e via dicendo. Ed è proprio quando le giornate sono così direzionali che diventano pericolose per chi va a prendere e a scalpare per piccole porzioni di movimento. Il mio suggerimento è sempre quello di cercare di ottimizzare, di prendere tutto quello che il mercato ci può offrire, almeno di puntare a quelle che sono le potenzialità del mercato, gestendo al meglio la posizione. I volumi ci aiutano tantissimo in questo, il flusso degli ordini e order flow filtrato ci aiuta tantissimo in questo, abbiamo tanti strumenti che possiamo utilizzare in maniera efficiente e quindi sfruttiamo queste opportunità e queste, diciamo così, occasioni operative. Buon video, ci vediamo al prossimo contenuto, buon trading, buon proseguimento, iscriviti al canale, metti un mi piace se il video ti è piaciuto, se ha stuzzicato la tua attenzione, commenti, dubbi, domande qua sotto in basso al video. Buon lavoro e buon proseguimento a Marcello.